a Parma stele per i caduti di Salò. E un ventenne la rimuove, www.enricoberlinguer.it slash qualcosa di sinistra a Parma la stele che ricorda i caduti di Salò è stata staccata dal muro del cimitero da un ventenne, che si è autodenunciato alla polizia come antifascista. E ad essere fermati dalla polizia municipale sono solo gli antifascisti che protestavano fuori dal comune. Contro tutto e tutti, il 2 giugno scorso, durante le commemorazioni per la festa della Repubblica e dell'Unità d'Italia, Pietro Vignali, sindaco di Parma, ha dato il suo assenso perché venisse posata una lapide a ricordo dei caduti della Repubblica sociale italiana. E poiché alle proteste dei comitati antifascisti e dei partite di opposizione, nulla è successo. A risolvere la questione è stato un ventenne che, armato degli strumenti da lavoro necessari e di tanta pazienza, ha scardinato la lapide dal muro, senza danneggiarla, l'ha posata a terra, per poi andare a denunciarsi dai carabinieri come antifascista. Questo l'epilogo di una vicenda nata male, ma che è finita peggio, alla richiesta delle d'opposizioni di riferire sull'accaduto, il sindaco ha fatto rispondere il suo vice. Le opposizioni non ci sono state e hanno abbandonato l'aula, mentre i cittadini che protestavano in consiglio sono stati portati via con la forza dalla Polizia Municipale. Il vice-sindaco Buzzi, in un'aula consigliare semivuota, ha dichiarato, la lapide è stata pagata totalmente dall'Associazione dei Repubblichini e questo non è revisionismo ma pietà per i morti e, nel 150esimo dell'Unità d'Italia, abbiamo cercato di avere una matura visione storica e un doveroso segno di rispetto. A stretto giro di posta è arrivata la replica del Comitato Antifascista di Parma. La RSI, con sede a Salò fu uno stato fantoccio creato dai tedeschi, che il 10 settembre 1943 avevano occupato militarmente nord e centro Italia, a capo del quale misero Mussolini, da loro stessi liberato il 12 settembre. La RSI si distinse particolarmente nella feroce repressione antipartigiana al fianco e per conto dei nazisti. La pietà umana non può essere confusa con i fatti, la storia, le idee. Le idee non sono certo uguali, sono ben diverse, libertà, democrazia, progresso sociale e uguaglianza sono i valori dell'antifascismo codificati nella Costituzione del 48. Così pure diversi sono i fatti storici, fatti di cause, il nazifascismo, e di effetti, la resistenza partigiana, ben distinti e non sovrapponibili. La pietà umana sia per tutti i morti, il ricordo pubblico, la commemorazione e la celebrazione no. Nessuna onorificenza e nessuna commemorazione per i fascisti, nessuna strada e nessuna lapide. Accade in Italia nel 2011. È come se in Germania dedicassero un monumento ai generali delle SS che gestivano i campi di sterminio. Accade solo in Italia. E siamo nel 2011.